Allora, trova i prossimi, ciao, 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 ciao La partita è stata cominciata, non è cominciata benissimo perché ai primi minuti abbiamo avuto un po' di difficoltà Però poi siamo riusciti ad incanalarla anche se abbiamo preso gol 5 minuti a fine primo tempo Non è mai facile reagire, noi ci siamo riusciti benissimo perché siamo partiti subito all'attacco Gli abbiamo messi là e a fine primo tempo siamo riusciti a raggiungere il pareggio proprio nell'ultima azione Senti, tu hai spinto molto oggi, soprattutto sulle fasce Te l'aveva chiesto il mister oppure è stata un po' l'evoluzione della partita? No, il mister non mi ha chiesto niente, è stata una mia scelta di spingere di più Perché secondo me la squadra aveva bisogno di un po' di spinta anche nella fascia sinistra dei terzini Senti Matteo, tra i migliori in campo domenica, tra i migliori in campo oggi Aggiungo oggi sbagliando praticamente zero, oltre al taglio di capelli, segreto qua No vabbè, sbagliando zero no perché nessuno è perfetto Però io penso sempre a migliorarmi, penso a me stesso, a migliorare sempre di più, ad ascoltare i consigli dei compagni Che ringrazio, è questo segreto e basta Quindi hai giocato ancora con ulteriore tranquillità? Sì, 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 sempre con tranquillità, come sempre giocato Senti, sei entrato nel grande assist del terzo gol Grande assist, sì, è vero, è stato un campanile giocato là in aria per non far ripartire la squadra avversaria E ho riuscito con un po' di fortuna un gol meritato perché meritavamo il terzo gol Come ti trovi a questo punto della stagione? Cioè il gruppo è abbastanza compatto, no? No, sinceramente il gruppo è pazzesco perché è veramente un grande gruppo I compagni mi aiutano sempre durante gli allenamenti, siamo un gruppo unito Non ci sono i soliti gruppetti che magari si possono formare in una squadra Siamo un gruppo unico, ben compatto Perché uno del posto fa particolarmente piacere, insomma, riuscire a ritagliarsi Sì, 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 il posto è duro da conquistare però Però ognuno riesce a ritagliarsi quel piccolo durante la stagione Sì, sì, sì Vieni Ok, va bene Matteo Grazie mille Ciao, buona giornata Buona serata